Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video archiviata la prima giornata, passiamo subito alla seconda che inizierà sabato alle ore 18.30 Come prima cosa vi invito subito a lasciare un bel like che ricordo porta fortuna per la vostra squadra al fantacalcio e io un pizzico di fortuna in più, fossi in voi me lo prenderei in un gioco dove la fortuna è una componente importantissima Vi consiglio poi anche di iscrivervi a questo canale qualora ancora non foste iscritti per non perdervi nessun contenuto a tema fantacalcio Se vi va potete anche supportare il canale tramite gli abbonamenti In descrizione trovate il link di Fantalab, tool per l'asta perfetta Se vi registrate dal mio link avete anche un piccolo sconto Se vorrete fare la versione premium o se siete già registrati utilizzate il codice sconto Fantavirus per pagare poi il premium solo 12,90 euro anziché 16 euro all'anno E ricordo che i miei indici di schierabilità che tra l'altro andremo a vedere all'interno di questo video Saranno a disposizione su Fantalab per tutti i miei abbonati su YouTube In questo video quindi cosa andiamo a fare? Andiamo ad analizzare tutte le partite di questa seconda giornata Andiamo a vedere chi schierare, chi non schierare, chi evitare assolutamente, quali scommesse andare a fare Andremo a vedere i miei indici di schierabilità che per quest'anno, ripeto, ho diviso in 5 categorie Abbiamo i giocatori da evitare, il cui indice è pari a 5 o inferiore Giocatori da valutare, ovvero sono giocatori da valutare in base alle alternative Non sono giocatori consigliati, non sono giocatori che possiamo mettere tranquillamente Sono giocatori che rischiano Solo che se non abbiamo altri nomi possiamo metterli nella mischia Perché il loro indice di schierabilità è pari a 6 Poi troviamo i giocatori schierabili Il cui indice di schierabilità è pari a 7 Infine ci sono le scommesse, indice di schierabilità 8 E i giocatori consigliati, indice di schierabilità 9 Detto questo ragazzi partiamo analizzando la prima partita Parma contro Milan Sabato alle ore 18.30, segniamoci il giorno e l'ora in cui va schierata la formazione Mi raccomando non dimentichiamola Sfruttiamo anche le formazioni ufficiali perché possono darci comunque una buona mano al Fantacalto E ci avremo anche le formazioni ufficiali di un'altra partita che è Udinese contro Lazio Da Parma a Milan cosa mi aspetta innanzitutto? Che entrambe le squadre possano andare in gol Quindi come pronostico ci ho inserito un 1-2 a favore dei rossoneri Un Milan che quindi può tornare alla vittoria dopo che la prima giornata non l'ha vinta Ha pareggiato 2-2 contro il Toro Dopo essere andato in svantaggio per 2-0 Mi aspetto un Parma che continua a essere propositivo Un Parma che mi ha convinto a livello offensivo Non mi convince il Milan dietro Quindi mi aspetto un Milan che possa soffrire E proprio per questo l'indice di schierabilità di Magnano è pari a quello di una scommessa Un 8 e non un 9 di un giocatore consigliato Suzuki invece 6 Giocatore da valutare in base alle alternative Generalmente non lo schiererei quindi Però se non ho altri portieri Lo posso anche mettere sostanzialmente In difesa nel Parma evito i tersini che possono soffrire più dei difensori centrali E i centrali del Prato e Circato sono comunque nomi alla Suzuki Quindi da valutare se non si hanno alternative I Mediana e Stavis bocciato Mentre Mann, Bernabè e Som sono tutti e tre nomi intriganti Parliamo in particolare di Bernabè e di Som Perché di Denis Mann ragazzi l'abbiamo capito È un primo slot di questo fantacalcio E va schierato sempre contro chiunque Perché può far veramente molto bene Per stile di gioco del Parma Che non conclude tanto con la punta Ma conclude con gli altri giocatori Quindi Mann è un giocatore che può far veramente molto bene Però parliamo di Bernabè e di Som perché sono due giocatori che si interscambiano spesso la posizione In questo momento la probabile formazione ci dice Bernabè, Mediano, Som, Trequartista Contro la Fiorentina è stato il contrario nel primo tempo Poi si sono invertiti nel secondo tempo E sostanzialmente il Trequartista si abbassa mentre il Mediano si inserisce Quindi può esserci una bella coesistenza fra i due Bernabè in posizione di Mediano Quindi può arrivare anche alla conclusione Quindi non sottovalutatelo perché è Mediano Perché la formazione ce lo dà in Mediana Perché può far comunque molto bene ed è un giocatore consigliato Scommessa Som che magari non è il nome così noto come Bernabè o come Denis Mann Ma ha fatto vedere qualità importanti E soprattutto è un giocatore che in Serie A ci può stare tranquillamente In attacco Miaila, Bonni se non si hanno alternative li schieriamo Altrimenti io tendenzialmente proverei ad evitarli nella mia squadra Per quanto riguarda il Milan a livello difensivo Partiamo da Calabria che è il nome da valutare in base alle alternative Il nome che non ci fa impazzire e che non fa la differenza Chi può fare la differenza è Teo Hernandez consigliato E attenzione, out morata per infortunio può essere rigorista E quindi potrebbe arrivare anche il primo più tre per Teo Hernandez In quest'annata al fantacalcio Tomori Pavlovich, mi aspetto loro due Come coppia centrale Sono nomi che possiamo schierare Non sono consigliatissimi Però sicuramente non sono giocatori che vanno evitati Perché sì, il Milan ha qualche problema dietro Ci metterà un po' di tempo per assestare la situazione Il buon Fonseca Quindi il gol Mi aspetto che lo subisca Ma sono nomi che comunque tenderei a mettere Fofana Potrebbe esserci l'esordio Nome da valutare in base alle alternative L'off to chic si può schierare Così come io vi dico Schieriamo Reinders Che è partito sì dalla panchina all'ultima Ma ha fatto molto bene Pericoloso anche con i tiri da fuori Non sottovalutiamolo Poi dalla trequarta in su Cucuese, Pulisic, Leao, Jovic Tutti da mettere Ovviamente Pulisic, Leao Consigliatissimi Cucuese, Jovic da scommesse Non sottovalutiamo Altra scommessa Noa Okafor Che all'ultima è entrato Ha segnato E chissà Che non possa provare a essere nuovamente Match winner del Milan Seconda partita Udinese contro Lazio Pronossi in questo caso più netto 0-2 a favore della Lazio Quindi Dalla Lazio Mi aspetto una bella prestazione Sia a livello offensivo Che a livello difensivo Un po' meno da parte dell'Udinese Un Udinese che Non mi ha convinto Vi dico all'esordio Sì ha strappato un 1-1 Contro il Bologna Però a livello difensivo Non mi è piaciuta E mi è piaciuta Ancora meno A livello offensivo Quindi un Udinese Che magari Deve ancora Registrarsi Al meglio Capire quali sono I nuovi equilibri Del nuovo allenatore Di conseguenza Non troviamo Un granché A livello di fantacalcio Vi dico Ocoglie Se non si hanno alternative Lo schieriamo Bijol In difesa È l'unico nome Valutabile In base alle alternative Gli altri Gli eviterei Insieme a Bijol Magari ci inserirei Uncamara Pajero Da evitare Lovric Si può schierare Perché si sta inserendo Veramente tanto Il tridente Se non si hanno alternative Lo possiamo schierare Nella Lazio Mi aspetto un 2-0 Mi aspetto una rete inviolata Quindi prove delle da schierare È consigliato ovviamente Romagnoli è consigliato Il resto della difesa È tutta schierabile Ghennozzi Damezzala È un nome da valutare In base alle alternative Rovella invece Loboccio Dele Bashiru Ampiamente promosso Ci ha portato un bel set All'ultima è una scommessa Che io faccio volentieri Per la prossima giornata Al Fanta Il tridente è tutto consigliato Zaccani Noslin Castellanos Ovviamente Attenzione a chi può partire Dalla panchina Come Bula Iedia Ma in questo momento Una semplicissima scommessa Andiamo alla partita successiva Che vede affrontarsi L'Inter E il Lecce In questo caso C'è veramente poco Pochissimo da dire Su questa partita Perché come vedete Dal pronostico Mi aspetto un 3-0 Netto a favore dell'Inter E come vedete Anche dagli indici Di schierabilità C'è un'ondata verde Nell'Inter Un'ondata rossa Per il Lecce Il Lecce Che in questo momento L'ho visto abbastanza Sopravvalutato Prima dell'inizio Del campionato Ho visto diversi Youtuber E non solo Non del fantacalcio Piazzara Ad esempio All'interno Delle loro Prediction Di classifica Il Lecce Al decimo Dodicesimo posto Si sta un tattino Sopravvalutando Questa squadra Che è una squadra Da salvezza Gioca contro l'Inter A San Siro Non sarà una gara facile E mi aspetto un 3-0 Netto da parte dell'Inter L'Inter è tutta consigliata In blocco Sia i titolari Che coloro che partono Dalla panchia Non dimentichiamo nessuno Bissek Viene da una pessima prestazione Va schierato comunque Non sottovalutiamolo Gli esterni Darmian Di Marco Ma anche Danfis Vanno messi C'è la Noglu Va messo assolutamente Perché per me Ci scappa il rigore Ve lo dico Per me ci scappa il rigore C'è la Noglu Un nome da schierare assolutamente Ovviamente Poi Lautaro Turan Ma non dimentichiamo Taremi Sono nomi comunque Da schierare in quest'Inter Occhio anche ai possibili Panchinari Alla frattesi Che possono fare molto bene Nelle ecce tutti sconsiliati Ad eccezione Di un Kristović E magari Di un March Vizky Che sono gli unici Due nomi Scommesse Dal Basso Valore Mettiamola così Nomi che se non abbiamo Alternative Possiamo provare a fare Però Insomma Non aspettiamoci sicuramente Una doppietta da Nicola Kristović Andiamo adesso A Monza Contro il Genoa Vi devo dire Il Monza di Nesta Non mi ha convinto All'esordio Il Genoa invece Nonostante abbia affrontato L'Inter E sia comunque riuscita A ottenere un pareggio Una squadra che mi è piaciuta Che mi ha convinto Certo Gioca lontano Dalle muramiche Mi aspetto Una vittoria di misura Del Genoa 0 a 1 Quindi In casa Del Monza Chi schierare E chi non schierare Al fantacalcio A livello di porta Gollini È una bella Porta per questa giornata Può far bene E soprattutto Da pronostico Mi attendo Che mantenga La propria porta In violata Pizzignacco È un 6 Nome da valutare In base alle alternative Quasi una scommessa Da 6 Una di quelle scommesse Del Non abbiamo nomi Proviamo a metterlui In difesa Comunque nel Monza Abbiamo qualche nome schierabile Perché abbiamo Izzo Pablo Marì Birindelli Chiriacopulos Che sono nomi Che comunque meritano La nostra fiducia Caldirola Invece Da valutare In base alle alternative In difesa Del Genoa Troviamo invece De Winter E Bani Insieme a Vasquez Che non va sottovalutato Che l'ultimo È partito Della panca E in questo momento Ce lo danno ancora In panca Ma secondo me Può tornare Titolare Che sono da schierare Perché sono comunque Tutti i difensori Da sempre a Gella Zanoli Martin De esterni Centrocampo Vanno schierati Al pari di Birindelli Chiriacopulos A centrocampo Vi dico Meglio Il Monza Del Genoa Per il leader Pessina Rigorista Che va schierato Quindi meglio Pessina di Frendrup Ma sono entrambi I nomi da mettere Pessina è una scommessa Da fare assolutamente Frendrup È un nome schierabile Malinoski Se non si hanno alternative Purtroppo È sceso tanto Di appeal Perché gioca molto dietro Baderi Da evitare Bondò Se non si hanno alternative Si mette Al pari di Vignato Daniel Maldini Giocatore schierabile Attenzione a Messias Che invece Sicuramente consigliato Gioca seconda punta Può far bene Petagna Da evitare Nel Monza Vitigna Si può schierare Occhio a Pinamonti Io una puntatina su di lui La farei comunque Passiamo adesso a Fiorentina Contro Venezia Pronostico 2-1 a favore della Fiorentina Quindi entrambe le squadre Vanno in gol Una Fiorentina Che vi dico Si sta ancora rodando Deve ancora darci Il suo 100% Quindi Per questo ci mette Una vittoria di misura Contro un Venezia Di Di Francesco Comunque una squadra Molto offensiva Ma che dietro Lascia molto a desiderare E infatti Come vedete Dall'indice schierabilità Nelle Venezia Non c'è veramente Nulla Nel senso che Possiamo provare Chiamate alla Zampano Duncan da ex Che magari Ci fa il solito Gollettino dell'ex Oristano E Gittkier Che sono nomi Da valutare In base alle alternative Scommesse A basso rischio Sostanzialmente Nella Fiorentina Invece abbiamo Terracciano schierabile Martini Squarta schierabile Comuzzo E Ragneri Da valutare In base alle alternative Gli esterni Biraghi Dodò consigliati I Mediani Ambarabat E Mandragora Da schierare Se non si hanno alternative Colpani E Ken Hanno avute Tante occasioni Nella gara d'esordio Hanno sprecato Un bel po' Li ho messi come scommesse Per indici di schierabilità Sono scommesse sicuramente Da fare Che farò Certamente Però Non li piazza ancora Nelle certezze Occhio a Colpani Che l'abbiamo capito Uscirà ogni partita Al sessantesimo Qua me Nome da valutare In base alle alternative Andiamo adesso A Torino Contro Atalanta Il Toro che viene da un pareggio L'Atalanta Viene da una vittoria Nettissima Contro il Lecce Per 4 a 0 Nel Toro Non ci sono Tanti consigliati Troviamo Sconsigliati Milinkovic Savic Portiere Masina Ricci E Linetti I difensori Voivoda Coco Belanova Lazzaro Si possono schierare Se non si hanno alternative Perché Belanova Solo sei Perché ci sono voci di mercato Che lo danno molto vicino All'Atalanta Vediamo come si evolve La situazione In attacco Sanabria Da valutare In base alle alternative Insieme a Ilic A centrocampo Zapata È l'unico nome consigliato Del Toro Che tra l'altro È capitano rigorista E anche ex Atalanta Quindi il gol dell'ex È dietro l'angolo Per quanto riguarda La Dea Invece Una valanga Di nomi Interessanti Consigliati Importa Musso Carnese Chichesia Si schierano Entrambi Sono consigliati In questo momento Musso avanti Nelle gerarchie In difesa La difesa 3 Dovrebbe essere composta Da Yen Jim City Che sono due nomi Schierabili E Derun Che va evitato Per un centrocampista Che gioca arretrato Zappagosta Ruggeri Sugli esterni Scommesse da fare Zappagosta L'ho visto bene Ruggeri Ci ha fatto un assist Sono nomi Da mettere sicuramente Questa giornata Quindi Indice di schierabilità 8 Paselic Ed Ederson Sono nomi schierabili Bresciani De Ketelare Reteghi Consigliati La panchina L'Atalanta Purtroppo In questo momento Non ce l'ha Stiamo a vedere Come si evolve Soprattutto Attendiamo Novità Dal caso Luckman Napoli contro Bologna Partita successiva Pronostico Altra sconfitta Per il Napoli 1-2 A favore del Bologna Un Napoli Che Deve trovare la quadra Deve fare qualche acquisto Soprattutto Deve sistemarsi Ancora Soprattutto In difesa Attenzione Le condizioni di buongiorno Che può recuperare Questa è sicuramente La prima cosa da dire Chi schierare A chi no Allora Importa Meglio Skorupski Di Meret Meret è un nome da valutare In base alle alternative Skorupski Invece è un nome schierabile Questa giornata In difesa In difesa Schierabili Di Lorenzo E Spinazzola Nel Napoli Beuchema Nel Bologna Che è un nome da modificatore Che può portare a casa Il 6 e mezzo Ottimo per il mod Rachmani Mazzocchi Da valutare in base alle alternative Nel Napoli Attenzione a Mazzocchi Che non è certo del posto Nel Bologna Da valutare in base alle alternative Posh E Lico Giannis Sconsigliati Uno per parte Juan Jesus Ehrlich A centrocampo Bocciati Mediani del Napoli Al fantacalcio Anghissa E Lobotka Mentre nel Bologna More e Freuler Se non siano alternative Si possono anche schierare Sempre nel Bologna Troviamo Consigliati Orsolini Fabian Scommessa da 8 di indici di schierabilità E Politano Schierabile Nel Napoli Dendoie Invece Nel Bologna Solo 6 di indici di schierabilità Un giocatore da valutare In base alle alternative Perché un giocatore Che si ha le occasioni da gol Ma sbaglia Troppo Ha sbagliato Veramente L'impensabile Contro L'Udinese Di conseguenza Non merita Da parte mia Tantissima considerazione Proprio perché È un giocatore sciupone Un giocatore che potrebbe fare tantissimo Ma che fa Poco In attacco Vara consigliato nel Napoli Simeone Bocciato Castro Da valutare in base alle alternative Insieme a Dallinga E anche Carson Nel Bologna Passiamo adesso a Roma Contro Empoli Mi aspetto Un 2-0 Da parte della Roma Che ha fatto uno 0-0 Anche l'Empoli Ha fatto 0-0 All'ultima C'è sicuramente da sottolineare Che c'è una Roma Con Paolo Di Bale Una Roma senza Paolo Di Bale E ce ne siamo accorti Anche Nella prima giornata E quindi occhio A Di Bala Parto proprio da lui Dicendovi Che è un giocatore consigliato Adesso magari Questo video invecchierà Malissimo Già tra qualche ora Perché magari Di Bale È al centro di trattative Di mercato Però secondo me La Roma Potrebbe commettere Un grave errore A cedere Di Bala Perché un giocatore È fondamentale Un giocatore che fa La differenza E quando c'è Si vede tutta Questa differenza Di conseguenza Io Di Bala Ragazzi Fossi in voi Lo schiererei Questa giornata Tornando adesso Su tutti i vari giocatori Nella Roma Svilare è consigliato Vi aspetto La porta inviolata Da parte sua Dica Mancini Angeligno Sono giocatori schierabili Selic Da valutare In base alle alternative La difesa dell'Empoli Invece è bocciata Ad eccezioni Di Pezzella Giuseppe Che un nome Da valutare In base alle alternative Che spinge tanto Si va a vedere Tanto in avanti E potrebbe essere Un nome a sorpresa A centrocampo Cristante Da valutare In base alle alternative Se non si hanno nomi Possiamo fare il suo nome Perché comunque La Roma Non dovrebbe soffrire tantissimo E quindi la sufficienza Ce la strappa Allo stesso modo Zalewski Un giocatore Da valutare In base alle alternative Sì giocherà Probabilmente Nel Tridente Però è un giocatore Che non fa la differenza Al fantacalcio Paredes E Pellegrini Valutazione Indice di schierabilità 8 Da giocatore scommessa Occhio a Paredes Che se non gioca di bala È rigorista di questa squadra E poi Sule Schierabile Che abbiamo visto Non è di bala Purtroppo Per la Roma È un giocatore È un giocatore che deve Maturare ancora A mio modo di vedere le cose Che ancora Deve fare quel salto di qualità Per giocare Titolare In una squadra Di alta classifica Ed essere trascinatore Soprattutto Perché di giocare Ci può giocare Però per diventare Un trascinatore Alla di bala Ci vuole ancora tanto È Dovbic Indice di schierabilità 8 Molto alto Ma è comunque Un giocatore scommessa Nelle Empoli A centrocampo Fazzini Unico nome da poter schierare E se non si hanno alternative In attacco Esposito Andiamo adesso A Cagliari Contro Como Uno a uno Come pronostico Un punto Per parte Che può fare Contente Entrambe Le squadre Importa Scuffè meglio di Reina Reina 40 anni inoltrati Per me Non Non dà garanzie Non ci punto Scuffè Si può schierare Visto che non mi esperto Che subisca Valanghe di gol In difesa Attenzione a Mina Che non è certo Di poter giocare Quindi partiamo Da questo presupposto Indice 6 Da valutare In base alle alternative Allo stesso modo Zappa e Augello Che sono due nomi Che non ci fanno impazzire Luperto Si può schierare Zortea È una bella scommessa Occhio alle sue condizioni Che non è al 100% Quindi occhio ad Azzi Che potrebbe essere Un'altra scommessina Quindi Se non gioca Zortea Gioca Azzi A centrocampo Bocciamo De Iola Prati Da valutare In base alle alternative Marine Che ha giocato Molto bene All'ultima Si può schierare Luvumbo Piccoli Due nomi Che possiamo schierare Potremmo magari Aspettarci Un gol O un bonus Comunque da parte loro Per quanto riguarda Il come abbiamo parlato Di Reina In difesa Promossi i tersini O meglio Da valutare in base alle alternative I centrali Bocciati Strevezza Scommessa Da Cugna Belotti Schierabili Il resto Ragazzi Trae il bocciato E il da valutare In base alle alternative Andiamo all'ultima partita Lunedì sera 20.45 Si chiuderà la giornata Verona contro Juventus Pronostico 2-0 secco Della Juventus Quindi altra Porta inviolata Per Di Gregorio Che consigliato Consigliato tutto il pacchetto difensivo Della Juventus Bremer Gatti Danilo E Cambiaso Attenzione A centrocampo Perché Douglas Lewis Va messo Comunque indice 8 Non da super consigliato Ma da scommessa Locatelli Si può schierare Che ha giocato bene Fagioli invece Lo boccio Occhio a Bangulac Che ha dimostrato Di essere una bella scommessa Il Dizvlaovic Entrambi molto consigliati Nel Verona Pecchetto difensivo Da evitare Assolutamente A centrocampo Duda Kastanos Lasovic Da valutare In base alle alternative Stesso discorso In attacco Per Rocia Livramento E Moschera Hanno segnato entrambi All'ultima Non facciamoci Prendere dall'hype E manteniamo La calma Quindi predichiamo calma Bene ragazzi Per questo video è tutto E ricordo Lasciate un like al video Se vi è stato utile E vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Ci vediamo domani Con la mia Top 11 Per la seconda Giornata di campionato Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti